Musica E' stato approvato dalla Giunta regionale disegno di legge che modifica l'articolo 3 della finanziaria del 2016. E' stata così recepita l'indicazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale seguita all'impugnazione da parte del Governo. La legge di bilancio previsionale era stata impugnata per un vizio formale nella parte che iscriveva 31,5 milioni di euro a disavanzo tecnico, procedura prevista dalla legge ma secondo Governo e consulta non applicabile nel caso specifico. La Giunta ha dunque provveduto in un primo momento a modificare la parte contestata attraverso la legge 32, ovvero la variazione di bilancio approvata il 5 dicembre scorso. La Corte Costituzionale aveva già tenuto udienza a novembre. La sentenza è stata però pubblicata solo a gennaio. La modifica approvata dalla Regione con la legge 32 non poteva perciò essere valida. Adesso è stata data formale copertura a quella somma con stanziamenti pari a 28 milioni di euro, inizialmente destinati al pagamento di interessi sulle rate di mutui e con eccedenze di circa 3 in spese accessorie e personale. Il DDL, composto di due articoli compresa l'entrata in vigore, arriverà in commissione e poi nell'Aula del Consiglio. In questi mesi, spiega l'assessore al bilancio Raffaele Paci, abbiamo avuto un confronto costante con i funzionari del Ministero delle Finanze e con la Corte dei Conti, per individuare con certezza il percorso più corretto da fare perché il bilancio armonizzato è stato una novità per tutti. Da un anno e mezzo nella sanità sarda insiste il blocco del ricambio occupazionale, per il quale non si poteva sostituire con nuovo personale chi andava in pensione. Ora la Giunta regionale ha sbloccato il turnover in ospedali, aziende universitarie e nell'ATS in generale. Le assunzioni, ha dichiarato l'assessore alla sanità Luigi Arru, avverranno in autonomia secondo le esigenze delle singole aziende, con il vincolo di rispettare i tetti di spesa stabiliti nel bilancio. Il titolare dell'assessorato Arru ha anche chiarito che le sostituzioni del personale potranno anche non tener conto del ruolo lasciato scoperto e coprire invece mansioni secondo altre priorità. Lo sblocco del turnover era stato richiesto a gran voce dai sindacati del personale sanitario, i quali avevano lamentato le ripercussioni sulla qualità del servizio pubblico per le carenze di medici, infermieri e ausiliari amministrativi. Incassato il successo della delibera che dà un po' di respiro all'organico delle aziende sanitarie, Luigi Arru è stato silurato da sei consiglieri regionali del suo stesso partito, il PD, ma di area diversa, i quali chiedono chiarimenti sulla nomina da parte del direttore generale dell'ATS, Fulio Moriano, del direttore amministrativo Stefano Lorusso. I consiglieri hanno espresso dubbi sul possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico affidato a Lorusso, problema che, al di là della competenza professionale del direttore, dicono, potrebbe causare illegittimità negli atti adottati dal dirigente nel caso di una accertata in idoneità all'incarico. Cresciuta la domanda, ma anche i prezzi delle abitazioni nell'isola, è l'esito dell'analisi condotta dall'osservatorio di Casa.it. Segnale di ripresa, dunque, per immobiliare in Sardegna, dove si registra più 4,3% della richiesta e più 2,7% per i prezzi, con un valore medio di 2.260 euro al metro quadro, mentre il budget per famiglia mediamente si attesta intorno ai 180.000 euro. L'analisi fa riferimento ai primi due mesi dell'anno in corso in rapporto agli stessi del 2016. Per quanto riguarda i prezzi degli immobili in offerta sul mercato, tra i capoluoghi registrano segno positivo Iglesias con più 1,9%, Nuoro e Cagliari con più 1,3% e Carbonia con più 0,7%. Prezzi in calo solo ad Oristano con meno 2,1% e a Sassari con meno 0,6%. Restano sostanzialmente stabili a Tempio e Olbia, dove, con 3.090 euro al metro quadro, risulta la città più cara, mentre Carbonia con 1.410 euro, e Oristano 1.430 euro le più economiche. Nelle altre città, a Cagliari il costo medio è di 2.430 euro al metro quadro, a Tempio Pausani a 2.100, a Iglesias 1.630, a Sassari 1.590 e a Nuoro 1.520. Nei primi due mesi dell'anno in Sardegna la domanda è cresciuta in tutte le città, con una media di più 4,3%, seppure con valori variabili. Le più dinamiche risultano Cagliari con più 6,8% e Sassari con più 5,4%, seguono Nuoro con più 5,2%, Iglesias con più 4,8%, Carbonia con più 4,4%, Olbia 4,3%, Oristano più 4,2% e Tempio Pausani a più 3,7%. Tra i fattori che hanno condizionato positivamente la ripresa dell'immobiliare fanno sapere da casa.it un più facile accesso al credito concesso dalle banche e i tassi minimi. Una curva crescente che fa ben sperare un settore che non registrava segni più da molto tempo. L'ex mercato civico costituisce uno dei pilastri dell'azione di rivitalizzazione del centro storico che sarà attuata grazie agli ITI, gli interventi territoriali integrati. 6 milioni di euro sono destinati alla struttura, negli ultimi anni di smessa e sottoutilizzata, ma che rappresenta uno dei luoghi simbolo della Sassari antica. Collega la città murata con i quartieri ottocenteschi. Dopo l'apertura del nuovo mercato nel 2012 ha invece perso la sua funzione principale di area mercattale, ha spiegato martedì pomeriggio il sindaco Nicola Sanna ai consiglieri comunali. L'assemblea civica era chiamata ad esprimersi sulla sdemanializzazione dell'ex mercato, che adesso è quindi riclassificato quale bene patrimoniale e potrà essere messo a disposizione di chi lo prenderà in gestione. Con gli ITI la vecchia struttura avrà due funzioni complementari e diverse rispetto al passato. Sarà un luogo di incontro e aggregazione, catalizzatore di coesione sociale, per le diverse comunità che vivono nel quartiere. Ma l'obiettivo è anche quello di far diventare l'ex mercato un volano per le attività commerciali di quello nuovo e di rilancio del settore terziario. Sull'esempio di altre realtà italiane ed europee, gli spazi saranno riorganizzati come struttura articolata, capace di attrarre un pubblico variegato e diversi target di popolazione. La pratica è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. La macroeconomia si può spiegare con concetti semplici, comprensibili da tutti e svelare in pochi passi le cause dell'attuale crisi. E la scommessa della MMT Sassari, che inserita in una rete nazionale, promuove la teoria della moneta moderna, una valuta che dipende esclusivamente da uno Stato sovrano e che aggira tutte le pastoie dell'attuale organizzazione dipendente dall'euro. In uno degli incontri quindicinali divulgativi, aperti al pubblico, Igor Cassano e Giovanni Rubattu hanno spiegato le divergenze tra l'economia neoliberista e l'originale impianto economico-finanziario di ispirazione keynesiana, pensato dai nostri padri costituenti. L'euro non è semplicemente una moneta, non è uno strumento neutro che può essere usato bene o male, ma è un preciso metodo di governo, fortissimamente voluto dalle elite bancarie, finanziarie, nobiliari, industriali che sono al potere, per togliere agli Stati la sovranità monetaria, cioè la possibilità di poter spendere a deficit per creare piena occupazione e benessere per i cittadini. L'obiettivo è creare disoccupazione. Perché elevati livelli di disoccupazione costringono i lavoratori ad una concorrenza al ribasso. Ricattati dal non lavoro, sono costretti a accettare precarietà, spinta, riduzione del salario, quindi deflazione salariale, riduzione dei diritti del lavoro e dei diritti sociali. Non tutti sono coscienti di come le graduali modifiche alla Costituzione stiano sovvertendo dalla base gli stessi principi ispiratori della nostra Carta. Dal diritto lavoro e alla piena occupazione, dalla tutela della dignità della persona umana, alla mercificazione della forza lavoro. In nessun Trattato europeo si parla di piena occupazione, si parla solo di contenimento dei prezzi e dell'inflazione, non si parla della dignità della persona, ma di tutela del mercato, di competitività fra Stati, alla faccia dell'Europa dei popoli e della fratellanza dei popoli. Il prossimo incontro della MMT Sassari si terrà a lunedì 13 marzo alle 19 presso la Media Campus a Predanieda. E' stato presentato alla stampa il primo premio letterario Memoria Storica a Torresina, racconti e aneddoti rosso-blu, teraprosa e poesia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari e il CUS Sassari. Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Memoria Storica a Torresina, Andrea Sini. Noi dell'Associazione Memoria Storica a Torresina sosteniamo da sempre che la Torres non sia soltanto un'entità sportiva, ma sia parte integrante della storia, della cultura, delle tradizioni della città di Sassari da oltre 110 anni. E quindi abbiamo pensato di sfidare i tifosi, gli appassionati, anche quelli che magari da parecchio tempo non vanno allo stadio, chiediamo loro di cimentarsi in un racconto o in una poesia in lingua sassarese o in italiano nella quale possono riversare i loro sentimenti sulla Torres. Possono essere racconti inventati oppure racconti che fanno riferimento a fatti realmente accaduti. Ognuno di noi ha il suo racconto della Torres, ha la sua prima volta all'Aquedotto, ha il suo ricordo della volta che è andato con suo babbo, con suo nonno per mano allo stadio. Ecco, noi puntiamo su queste storie, vogliamo che la gente le tiri fuori e le metta per iscritto e siamo qui disposti a pubblicizzarle, a leggerle in pubblico e a premiarle anche. Sì, vediamo la torre. Già lo sai.